Su e giù dallo spazio fino al firmamento del grande schermo termina con un lieto e stremato fine l'avventura del primo film girato autenticamente nel cosmo. Il set a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, le riprese sono durate 12 giorni. L'attrice Yulia Perezilde e il regista Klim Shipenko hanno toccato terra nella steppa del Kazakhstan all'alba di domenica, secondo le immagini fornite in diretta dall'Agenzia Spaziale Russa. Registe e attrice erano accompagnati da uno scerpa del cosmo, l'astronauta Ali Egnavitsky, un abitue della Mir. La trama, più o meno rimasta segreta, nonostante l'originale battage pubblicitario, dovrebbe parlare di un chirurgo inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale per effettuare un intervento d'urgenza. Se il film andasse a buon fine, la cinematografia russa batterebbe il progetto liwoodiano di spedire Tom Cruise in orbita per girare delle scene di un nuovo film. Con l'aiuto di NASA, Elon Musk.